Chi sono io? Io sono Giovanni Paparcuri, una persona semplice, un po' pazzerello. Il dottore Borsellino mi descrive un uomo particolare, una persona particolare. Sono nato al confine con la Magione, la Magione dove sono nati il dottore Falcone e Borsellino. Mio padre poverino certe volte chiudeva la sala cinesca dell'officina e ci riunivano i figli e ci diceva ragazzi stasera c'è solo pane e mullica, cioè non c'era altro. Mio padre era un umano meccanico, la terza media. Per fortuna il signore mi ha dotato di una buona intelligenza, l'ho sfruttato al massimo. Grazie all'insegnamento di mio padre e grazie a quella professione io facevo anche il meccanico e grazie a quello che avevo acquisito come meccanico ho vinto anche un concorso come motorista alle ferrovie, però non mi piaceva, mi piacevano le sirene. Io ho detto un giorno devo guidare queste macchine, non è possibile. Dopo l'omicidio del procuratore Costa, il ministero acquistò poi credo 300 macchine per proteggere i magistrati, bandì un concorso, mia sorella di nascosto mi presenta questa domanda, sono passati neanche due mesi. Dopo due mesi mi arriva la chiamata del ministero e poi, ironia della sorte, il destino ha voluto che non mi hanno assegnato all'ufficio istruzione dove dovevo correre con le macchine imblindate. Mi assegnano al presidente del tribunale Giacomo Spadario, poi sempre per caso sono venuto a finire all'ufficio istruzione per un provvedimento disciplinare, perché litigai con la signora Anna Merighi, che lo dico, siamo in buoni rapporti, che la segretaria del presidente del tribunale allora si doveva punire Giovanni Paparcuri. La punizione qual'era? Mandiamolo subito all'ufficio istruzione perché questo era un ufficio punitivo. La punizione assegnato con il dottore Falcone. Io ero l'uomo più felice del mondo. Il dottore Falcone già aveva la macchina apripista, cioè la volante, la scorta di dietro e a volte anche l'elicottero e anche per noi era prestigioso. Quindi al di là che non pagavano assolutamente esordinario, era pericoloso, ma chi ha scelto un certo tipo di lavoro, quello era il massimo. Il massimo era il dottore Falcone o il dottore Borsellino. E di comune accordo con un mio collega Paolo San Marco ci siamo messi d'accordo che soltanto noi due avremmo gestito le macchine blindate sia del dottore Falcone che del consigliere Chinnici. Il dottore Chinnici sapeva che sarebbe stato ucciso. Lui ripeteva spesso, io so che mi uccideranno, però spero che non accada qualcosa ai uomini della mia scorta. Eravamo tranquilli e sereni, ma sereni perché? Perché purtroppo noi siamo convinti che certe cose a noi non possono accadere. Però purtroppo puntualmente quel 29 luglio è accaduto, arrivo in via Pipitone Federico puntualmente, già c'erano la radiomobile, l'autodiscorta, l'Alfa Sud. In quel preciso momento il consigliere già era per le scale, stava per uscire dal portone. Il segnale anche per i killer fu il segnale che fece il maresciallo trapassi, perché quando eravamo pronti per partire il maresciallo con la sua mano sinistra faceva sempre questo segnale. Era il segnale per noi tutti per prepararci, ma in realtà non solo doveva essere per noi, ma fu principalmente per i killer che erano nascosti a circa 100 metri di distanza in una piazza. Ci fu questo segnale, loro contemporaneamente hanno premuto questo telecomando, esplosa la macchina ed è morto. Il consigliere Chinnici, l'ha puntato Bartolotta, il maresciallo trapassi e poverino anche il portiere dello stabile che non c'entrava assolutamente nulla. E sposa sta macchina, sono morti i miei amici, sono rimasto coinvolto, ferito. E di là è cambiata, alle 8 e 5 è cambiata la mia vita. Grazie a tutti.